Penso, io prendo atto di quello che accade, poi è chiaro che immaginarsi un finale di questo genere diventava difficile, però poi sono partite dove gli avversari continuano a lottare con l'intensità giusta, con l'attenzione giusta, perché l'Empoli è una squadra che ha fatto così tutto l'anno. Noi probabilmente sul finale della partita abbiamo perso un po' di attenzione perché abbiamo perso qualche palla di troppo, abbiamo fatto qualche errore che per quello che è il nostro livello non dovevamo fare, però poi sul fatto dell'attenzione e della continuità.